Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, io sono maullo941 e oggi continuiamo la nostra avventura con i gamberetti signori Allora, prima di partire dal video io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ricordo di fare un salto sul secondo canale Mi trovate come maullo941beats in cui portiamo altri giochi e altri gameplay Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate sia su Instagram che su Facebook Dove tramite appunti social vi aggiorno su quando escono i video e su quando siamo in live Sia su questa piattaforma che su quella viola Vi ringrazio anticipatamente per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date sia a questa serie sia alle altre sia a entrambi i canali E ultima cosa, date un'occhiata ai link in descrizione per rimanere sempre aggiornati sul canale Detto questo signori, non perdiamo altro tempo che già mi si è asciugata la voce, la lingua e partiamo con il video Signori, episodio numero 47, tanta ruba, ci avviciniamo all'episodio 50 Allora, andiamo a vedere cosa ci hanno portato gli osservatori Allora, Torres, Torres che ci ha portato dalla Russia Dubkov, Dubkov, 51,69 Dubkov, non abbiamo nessun dubbio a mandarti via Desny, 47,65, inguardabile Smirnov, 67,91 Ma, il pizzetto che potrebbe essere interessante, ti lasciamo lì E Samarov, 58,80 No, no, assolutamente no Ci vorrebbe uno che vale tipo 2 milioni subito, così, no Kilpatrick, dall'Estonia ci porta Cook, 60,80 No Paschuk, 59,81 No Viding, 46,64 Questo deve essere uno scarsone pauroso, no E Sepp, no Sepp, niente, Sepp non ci interessa E poi Glover Dalla Sveccia ci porta Isaac Mattson, 71,94 Tu sei interessante, a te ti ingaggio subito Ludwig Sandberg, 51,71 No Nilsson, 48,68 No Martinson, 48,66 No E Andreson Totinson, no Neanche lui era buono Allora, io non so ovviamente chi abbiamo portato in primavera Andiamo un attimino a vedere chi ci siamo portati, signori Perché io ormai c'ho solamente confusione per quanto riguarda i giovani Sta seguendo il giocatore, sta seguendo il giocatore No, l'avevo sbagliato Ok Andiamo qui Allora Abbiamo il nostro fondoschiena che sta crescendo bene È già diventato un 59 Punto a 60 McNeigh, 76,82 Se ancora sei a 50 Va bene, va bene Va bene, va bene, va bene Il nostro Schenco è un 57 Va bene Arma è un 51 Questo è quello che abbiamo preso adesso Arma 72,94 Va bene Pardy è la nostra mascotte Nordstrom Arvid Svedese 74,94 Un COC Il nostro Benjamin Perfetto Che è un 54 Mattenson Isaac 71,94 E D.A.S. Ok E Rabain Mamma mia che sei Mamma mia Attaccante sinistra Esterno sinistro Centro compista centrale 15 anni Potenziale 69,93 Nigul Nigul mi sa che non vedrai mai la prima squadra Va bene, sì Lasciamole lì A fine stagione poi vediamo un attimino di tirare le somme Andiamo avanti Che ci aspetta una partita di coppa Ci aspetta una partita di coppa Quindi vediamo un attimino di Quanto meno in questa Quanto meno andare un minimo avanti Ok, sì Allena lì Come se non ce lo sono domani Allena, allena, allena Non so quando si gioca In tutto questo non so quando è la partita Ok, ce l'abbiamo Il giorno 10 Mercoledì 10 novembre Sì, allena Allena, 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 allena Allena lì tutti Perfetto E arriviamo alla partita contro i Wimbledon E poi subito in campionato c'è il Colchester Anomai quel simbolo me lo ricordo Scott Che vuole Scott? Che vuole Scott mio? So che sta cercando un sostituto del ruolo di centravanti Potrei essere io Mi dia l'occasione per dimostrare Scott l'ha giocato l'altro giorno E gli ho detto che era la sua occasione Mannaggia Quindi dobbiamo farlo giocare per forza Contro i Wimbledon Va bene, allora È coppa signori Quindi direi di dare effettivamente Una possibilità a tutti Compreso Miura Quindi Magri E qui facciamo giocare Dai, diamo un turno a Songo Dai Songo E il piccolo Luna Do stai No, veramente Songo l'abbiamo venduto signori Quindi Songo no A mostro Dio che augurerà Lento come pochi Ma Dio augurerà ancora nostro Giardino fuori per Cantesti Vence fuori per Gibson Qui dietro tornano Lavandino Lavello e Davis Qui ci mettiamo Vazela E importa signori Lasciamo Spike Vediamo cosa succede Vediamo cosa succede Ehm Al posto di Sullivan Però ci portiamo Stoccon Dove è Stoccon Stoccon Ok Così abbiamo un attaccante di riserva E Coppa Non Non ci interessa più di tanto FL L'EFL Trophy Dico Va bene giocare anche con i panchinari O con le seconde linee Detto questo signori Scendiamo in campo Ok Si parte signori Il Papa Jones Trophy Il Papa Jones Trophy è bellissimo Il Papa Jones Trophy Va bene In onore Di Papa Maullo Praticamente Sta facendo il miracolo Con questi gamberetti Ehm Va bene E io non ho visto la classifica Non so bene Come siamo combinati Siamo tre squadre Ricordo che la prima L'abbiamo pareggiata E forse loro Non hanno mai giocato Boh Non mi ricordo Non mi ricordo Calcio d'angolo Dai Occhio In porta abbiamo Spike Signori Quindi abbiamo cercato Di tenere il pallone Più lontano possibile Mister Saponetta Spike sarà Mister Saponetta Da oggi Dai 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 Miura Voglio dare Miura non gioca male Quando gioca E' sempre bello Bello cazzuto Quindi voglio cercare Di Di vedere Di approfittare Una volta che ce l'abbiamo Della sua esperienza Li facciamo andare via Questi Wimbledon In che lega giocano questi Perché troppo pericolosi sono Allora Dai 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 ripartiamo Dai ripartiamo con calma Eh sì Però se noi facciamo Ste cagate terribili Dai 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 Gibson Bravissimo Bravo Kanté Allora Kanté E Kanté sta crescendo bene Quindi vediamo di sfruttarlo Grande Kanté Grande Kanté Guarda 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 Grandissimo Gibson Il nostro Mel Il nostro Mel Gibson Il nostro Mel Gibson Che però Grande Mel Grande Mel Grande Mel No Ancora no Il nono mi ora Il nono mi ora Kanté non parte Kanté parte ora Va bene così Dai Kanté Dai Kanté Dai Kanté Dai Kanté Grandissimo Kanté Che entra in aria Grandissimo Kanté Che entra in aria 1-2 veloce Stiamo sprecando troppo Questa cosa non va bene Signori Questa cosa non va bene Perché poi loro ci puniscono Ancora noi Con Kanté 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 Che lo supero Supero Il suo marcatore Attenzione Il pelatone Il pelatone Occhio al pelatone Occhio al pelatone Grandissimo Kanté Sterzata Torna indietro Kanté Kanté in aria Kanté ci prova Calcio d'angolo Dai signori Un gol dobbiamo trovare Porca miseria Un gol Megri 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 Per Miura Per Miura Per Miura che ci prova Mano nettissima Ma era mano nettissima Ma era mano nettissima Megri Ancora per Miura Che sterza Sterza in aria Gira Ancora Kanté 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 Riesce ad entrare Kanté 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 No vabbè Dai signori Ma che cazzarola è Kanté Ancora Miura Sassato dal limite No i tiri dal limite Non riescono I tiri dal limite Non riescono Fine primo tempo Signori 0-0 A primo tempo Cioè ci sono mangiati L'impossibile Ma porca miseria Porca di quella miseria Ma non è che non è arrivato Nemmeno un pallone a Spike Perché sennò Già saremmo sotto di un gol Dai dai Partiamo col secondo tempo Attenzione loro Su quella fascia Noi cerchiamo di chiudere Attenzione Vediamo se arrivano al cross Arriva il cross Spike Meno male Mister Saponetta Riesce a prenderla E riesce a restituirgliela loro Complimenti a Mister Saponetta Non sapevo che fosse Che fosse Che fosse Tu stai scherzando Non mi dite che rigore Signori Non mi dite che rigore Ok calcio d'angolo No per un attimo Ho tenuto che fosse rigore C'è da aspettarsi tutto In questo gioco No 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 Ancora loro Ancora loro Dai 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 La recuperiamo sta pal Va bene Va bene Rimesso laterale Nostra Buona così Dai 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 Megri E io non c'ho Lo zio Sully Su questa fascia Megri 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 Scott 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 Con calma Guarda Megri Vai Megri Vai Megri Vattene Megri Vattene Megri Grande Megri Mamma mia Mamma mia che serendo Megri 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 Dai 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 guarda il nonno Guarda il nonno 1 2 1 2 1 2 Il nonno Miura Il nonno Miura Ma che cosa ha trovato il nonno Miura Il nonno Miura Che prende anche a calci la banderina Grande così Grande il nonno Che sassata del nonno Miura Paorosa Bella zena nello stretto Bellissima la zena nello stretto Meno male che l'ha trovato il gol perché c'era 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 Il nostro giocatore libero in aria Mamma mia che sassata di destro Ha levato le ragnate nell'angolo della porta Grande nonno Ha ripagato la fiducia Attenzione loro Cantè cerca l'intervento Va bene va bene Oh mi ha scambettato Ma dai Se non mi avesse sgambettato ci sarei arrivata la palla signori Se non mi avesse sgambettato ci sarei arrivata anticiparlo Dai cantè dai cantè dai cantè dai cantè dai cantè Occhio signori calma 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 che in porta abbiamo spike Non abbiamo abbiamo mister saponetta in porta signori Va bene va bene va bene Calma mister saponetta calma mister saponetta Apri la qua Grande Magri vai vola 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 Magri Vola Magri vola Magri vola Magri Che la butta subito al centro Ancora ancora non torna ci torna Magri ma che fa passeggia Ha fatto una cosa buona Magri e si è fermato Ho detto va bene Mi sta bene così Mi sta bene così Siamo ancora al 75esimo signori Occhio 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 Mamma mia mister saponetta cosa ha salvato Mister saponetta ha fatto un salvataggio impressionante Dopo una stupidaggine nostra In difesa Mister saponetta ha fatto un grandissimo salvataggio Dai Magri Dai Magri Scott Ancora Magri Ancora Magri Occhio che su quella fascia lui è molto più veloce di te Magri Bravo Gioca di intelligenza Magri Gioca di intelligenza Magri Diagurara ha cercato di arrivarci il tiro Va bene prendiamo tempo Prendiamo tempo Miura per Stockholm Va bene dai Fuori il nonno dentro Stockholm Signori Fuori il nonno La torre del gol del vantaggio Dentro Stockholm Per chiuderla Attenzione Diagurara ci prova No, 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 non doveva farlo Diagurara questa Questo è stato un gravissimo errore di Diagurara Ma recuperiamo una gran palla, Kantè Ok, ancora Diagurara, grande nel movimento Questa volta cerca Magri Questa volta cerca Magri che se ne va Due minuti in recupero, il primo se n'è andato Magri cerca la banderina, si ferma Magri torna indietro Grosso leggero, testa quadrata Testa quadrata di Scott, signori No, di Stockholm, numero 9 Finisce così, 1-0 Passiamo, cioè, tre punti importantissimi Che dovrebbero segnare il passaggio del turno Penso di sì Va bene, va bene Ok, signoria, andiamo avanti Prossima partita contro il Colchester Dovrebbe essere E infatti, che è tredicesimo Attenzione, Colchester è tredicesimo Noi siamo secondi a 32 punti A due punti dall'Uton Va bene così, signori Guardate il nostro nonno Miura che festeggia Va bene, signori Detto questo, io vi ringrazio Per guardare questo video Vi ringrazio per i like, i commenti E i suggerimenti Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao 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 Ciao